Ma mentre mettevi la barca in acqua? Sì. E quanto è durato? Un quarto d'ora. Mi toglie il fiato ogni volta più forte. Ti serve un'attacca. Se vuoi chiamo e ti fisso l'appuntamento. No, grazie. Troppa villa agli sportelli. Lei è presato al pozzo? È pulita, ti puoi fidare. Cosa pensi? Alle parole che usi. Quali parole? Ti puoi fidare, hai detto. Sono parole morte. Non sono parole morte. Sì, invece. Sei circondata di cose morte. I bicchieri di vetro, la brocca, la scatola di biscotti. Manca a tutti, no? Che cosa? La vita come era prima. Ma non serve più niente il passato. Non è vero. E lo sai. Io ho cancellato tutto. Però tuo figlio, quello l'hai tenuto. Lo sai che ti chiama la strega? Sì, quando lo tratti troppo male, viene qui. Ha ammazzato un cane. L'ha portato a casa, gli ho detto di scogliarlo e lui l'ha fatto. Normale per lui, no? Cani, gatti. Li ammazza e poi li mangia. E allora? Lo facciamo tutti? Sì, però noi sappiamo questi sono i danni, no? Sappiamo che stavano sul tappeto, davanti al divano. E che invece di mangiarli, noi li accarezzavamo. Lui non sa niente. Ma sei tu che non vuoi. E che cosa gli dovrei dire? Cos'è un divano, un tappeto, una casa riscaldata? No, cos'è una carezza? Questo è quello che dovresti dirgli. Ma le carezze non servono più a niente. Sarebbe meglio che fosse morto.